Addio agli alluvioni e agli allagamenti che negli ultimi anni hanno puntualmente mandato in tilt la città di Biceglie, provocando anche ingenti danni alle esercizi commerciali. Si è concluso infatti col parere di conformità da parte dell'autorità di Bacino della Puglia un passaggio decisivo in vista della definitiva approvazione del piano urbanistico generale di Biceglie. Lo rende noto un comunicato diffuso da Palazzo di Città che ne ripercorre i momenti decisivi. Nel 2012 il Consiglio Comunale condivideva con l'ADP il particolo delle aree di pericolosità idraulica, appunto alluvioni e allagamenti nel territorio di Biceglie. Nel 2013 l'amministrazione comunale trasmetteva il progetto delle opere per la mitigazione del rischio idraulico. Con la nota aggiunta ieri, mercoledì 21 maggio, sottolinea la nota di Palazzo di Città, l'autorità di Bacino ha comunicato l'approvazione del progetto esecutivo a seguito del quale saranno eseguiti lavori per la creazione di vasche di laminazione per la raccolta di acque meteoritiche per circa un milione di metri cubi in località pedata dei Santi per la protezione delle aree urbane ed extraurbane posti a valle delle stesse. Per la prima volta a Biceglie, ha rimarcato il sindaco Francesco Spina, vengono posti criteri certi e realizzate opere per mitigare il rischio idrogeologico. La mia amministrazione, dice Spina, ha attuato una vera e propria rivoluzione copernicana a favore del rispetto dell'ambiente e per la sicurezza del nostro territorio. Sono lontani gli anni bui in cui a Biceglie si costruivano palazzi nelle lame. Peraltro l'approvazione odierna rappresenta un grande passo avanti verso l'approvazione del nuovo Pug che verrà presto portato in consiglio comunale per l'approvazione definitiva.